40 anni di passione per lo sport ha avuto un sapore tutto particolare la cena di fine estate del gruppo sportivo Ponteburiano che ha tagliato il traguardo dei 40 anni di attività iniziati nel lontano 1978, gremitissimi i locali della cricca di Ponteburiano per una serata di festa, spettacolo, divertimento e soprattutto anche di presentazione della squadra per la stagione 2018-2019, particolare showman della serata, l'inimitabile Riccardino e nel corso dell'evento il CDA della cricca ha voluto riconoscere una speciale targa anche ad Arezzo TV vista la concomitanza di un altro anniversario, i 30 anni di vita della sua attestata giornalistica. Nella targa, ritirata per l'occasione dal direttore Greta Settimelli, si legge ad Arezzo TV per i suoi 30 anni di intensa e proficua attività, tesa ad un'informazione professionale dell'interesse della città e per la particolare attenzione rivolta negli anni, mirata a salvaguardare e valorizzare le nostre preziose risorse storiche, culturali e ambientali. Da sempre, aggiungiamo noi, Arezzo TV ha cercato di raccontare l'inimitabile fascino di Ponteburiano, dalle sue tradizioni alle sue bellezze, fino ad arrivare ad oggi al futuro del ponte della Gioconda. Un sentito ringraziamento da parte di Arezzo TV al gruppo sportivo e alla cricca di Ponteburiano per il riconoscimento, mai scontato, con la volontà di continuare a raccontare questo prezioso scorcio aretino con tutte le sue realtà.